ma bentornati o benvenuti se siete nuovi in questo canale in quel caso vi invito a iscrivervi oggi parliamo di per lanciarsi dalle stelle il nuovo film italiano originale netflix tratto dall'omonimo romanzo di chiara parenti allora ormai è chiara una cosa anzi due cose la prima è che se una cosa è trash e io so già essere trash devo guardarla o questo fetish o il fetish per il trash devo guardarla e la seconda cosa è che se una cosa appartiene al panorama del cinema italiano devo guardarla e io ero consapevole che questo film sarebbe stato un film inutile un film che potevo tranquillamente evitare di guardare potevo guardare mille altre cose ho iniziato the office come ho detto nelle mie storie instagram che mi invito a seguire ho iniziato the office mi sta piacendo tantissimo mi sta facendo un sacco ridere ieri avrei potuto passare tutta l'intera serata a guardare the office e invece no ho deciso di guardare per lanciarsi dalle stelle perché il film parla di questa ragazza sole che ha un disturbo d'ansia generalizzato e praticamente aveva una migliore amica che poi decide di partire con il fidanzato e trasferirsi in francia a parigi il film è ambientato in un paesino della puglia e lei che diciamo questa amica emma era l'unica che riusciva a capire il problema di ansia generalizzata di sole sole a un certo punto quindi si ritrova senza questa sua amica spiazzata e le sue ansie le sue paure le deve affrontare da sola finché non si scopre che c'è una lettera in cui emma aveva chiesto a sole prima del loro ultimo litigio insomma perché poi siano litigate prima delle parti senza ma eccetera emma chiede a sole descrivi qui tutte le tue paure affrontiamole insieme quindi il film poi si basa su sole che decide dopo un primo momento diciamo di titubanza di superare queste paure era anche un diciamo un modo carino per trattare un disturbo serio come appunto disturbo di ansia generalizzata in maniera leggera non superficiale in maniera leggera in maniera ironica come a dire è un problema serio ma ci sono delle soluzioni relazioni basta volerlo questo film io non voglio dire che sia brutto perché non è brutto cioè già costare a questo film un aggettivo comunque sarebbe meglio di pensare come penso io che questo film sia totalmente inutile perché se un film è brutto almeno è servito a qualcosa e vuol dire che almeno conteneva al suo interno delle cose che ti hanno fatto dire questo film è bello questo film è brutto questo film invece è inutile dall'inizio alla fine non decolla mai cioè non c'è mai un momento in cui finalmente questo film prende respiro e tu dici ok siamo entrati nel vivo no è super prevedibile a livello tecnico è semplicissimo a livello registrico pure se non per il fatto che ogni tanto sole rompe la quarta parete parla direttamente con noi spettatori questa l'ho trovata una scelta per questo film azzeccata forse l'unica cosa che mi ha un po che mi è un po piaciuta se così possiamo dire di questo film ma per il resto è un film estremamente prevedibile cioè tutto quello che tu pensi accade e poi secondo me è troppo veloce nel senso sole per tipo le prime 40 minuti di film non riesce a fare niente cioè non riesce neanche a scegliere il gusto del gelato e invece a un certo punto con un montaggio di vari spezzoni veloci lei riesce a fare tutto c'è in un solo giorno va alle giostre si fa un piercing prende un biglietto aereo cioè così cioè lì è tipo ho l'ansia ho paura di prendere un gelato schiocco le dita prendo un gelato schiocco le dita mi faccio un piercing un po troppo veloce poi sì a un certo punto vabbè ci sono dei momenti in cui dici ok forse questa ansia è troppo grande non riesce a superarla però secondo me un po troppo veloce basta una lettera e ti passa va bene che si può superare con ok se sei determinata se veramente buona cosa la fai però se soffri disturbo d'ansia non dico che non superi mai i tuoi limiti ma tutti insieme ora non lo so perché io per fortuna non ho mai sofferto d'ansia però non credo che si supera tutto insieme tutto così velocemente puoi avere amici come come sole puoi avere amici che ti stanno accanto che ti aiutano che ti supportano puoi avere una famiglia che ti supporta può avere tutto può avere un sacco di determinazione e motivazione nel fare le cose e sono tutte cose che la protagonista di questo film ha ma secondo me un un po troppo veloce il film un po troppo è il finale il finale un po troppo scontato possiamo possiamo dirlo ora io non ho letto il romanzo quindi non so se il romanzo è effettivamente così se hanno cambiato non lo so però è veramente un film che lo guardi prevedi tutto e ti lascia estremamente indifferente c'è un film che è un film che non è un film non ti dà emozioni non c'è trasporto vuole essere leggero e romantico e secondo me non è neanche leggero e romantico è inutile è un film totalmente inutile secondo me mi dispiace dirlo perché sapete il mio amore verso il cinema italiano sapete quanto ci rimango male quando un film che appartiene al panorama italiano o un film una serie insomma vadano male o comunque io li consideri brutti ci rimango sempre molto molto male ma in questo caso lo devo dire non ve lo guardate no c'è molto di meglio da vedere ma se volete vedere che roba italiana bella c'è tantissimo di meglio e io faccio sempre l'esempio ultimamente di bang bang baby la serie che è uscita su amazon prime che secondo me è forse uno dei punti più alti che il cinema italiano abbia toccato per quanto riguarda i contenuti che arrivano nelle piattaforme streaming non parliamo di film al cinema ma per quanto riguarda roba italiana uscita nelle piattaforme streaming credo che bang bang baby sia uno dei punti più alti che si siano toccati quindi l'italia è in grado di fare belle robe non solo al cinema ma anche streaming ma non è il caso di di questo per lanciarsi dalle stelle che ripeto io sapevo che stavo andando a vedere un film frivolo ma non mi aspettavo così tanto inutile è proprio un film che non mi ha dato niente e che mi ha solo rubato un'ora e mezzo ma non me la posso prendere con nessuno perché ero consapevole che mi sarei fatto rubare un'ora e mezzo di vita che nessuno mi avrebbe dato indietro ma non fa niente l'ho fatto per colmare questo mio fetisci verso la roba italiana e verso la roba fresh e l'ho fatto perché poi mi andava di parlarne con voi almeno sapevo che mi rubavano un'ora e mezzo ma avevo con chi sfogarmi perché voi siete sempre la mia valvola di sfogo e per questo vi ringrazio vi ringrazio anche per aver avuto la voglia e la pazienza di guardare anche questo video vi invito come sempre a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun contenuto e vi invito anche a lasciare un like al video perché per me è davvero davvero importante fatemi sapere inoltre con un commento qua sotto non spoiler ammesso che ci sia da spoilerare se avete visto questo film che cosa ne pensate se a voi è piaciuto se siete d'accordo con me quindi lo ritenete anche voi un film inutile frivolo insomma un film che non racconta nulla che prova a raccontare ma non racconta nulla ma raccomando come ho detto prima non spoiler commenti non spoiler se invece vogliamo parlarne tranquillamente potete seguirmi su instagram e contattarmi in direct e io vi aspetto al prossimo video dagli è